Codice dei contratti pubblici, articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, e-procurement. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, e-procurement, è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui è l'articolo 23, e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalla stazione appaltanti, di cui è l'articolo 25. Le piattaforme e i servizi digitali di cui è al comma 1 consentono in particolare a-la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale, b-la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, c-l'accesso elettronico alla documentazione di gara, d-la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico, e-la presentazione delle offerte, f-l'apertura e la gestione della conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale, g-il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui è al decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82.